Buongiorno, sono Nicole Melogna e sono qui con il mio compagno Elia di Causi e siamo degli studenti della terza sala dell'Istituto Alberghiero Giancardi di Alassio e siamo qui per presentarvi un cocktail diventato da noi per il concorso l'eroico è una domanda energetica e analcolica perché appunto l'alcol potrebbe causare degli effetti su ogni tipo di attività fisica come primo ingrediente utilizzeremo la banana che come sappiamo è particolarmente ricca di potassio indicato per la dieta degli sportivi perché aiuta a controllare la pressione sanguigna contrasta la perdita di massa muscolare, ripristina l'equilibrio elettrolitico favorisce ripristina dei liquidi e pregiene i crampi come secondo ingrediente utilizzeremo la cioccolata perché è particolarmente consigliata per le proprietà energetiche ma per gli sportivi saranno importanti le proprietà antiossidanti spezziose per proteggere la struttura muscolare tendine nervose e vascolari ma soprattutto durante lo sforzo fisico molto intenso poi andremo ad aggiungere un po' un prodotto dolcificante che sarebbe il latte di mandorla successivamente aggiungiamo 4 cm di panna fresca importante per l'apporto chilocalorico e infine completiamo il cocktail con due dosi di caffè che riduce il tasso di percezione dello sforzo fisico che contengono circa 140-150 mg di caffeina sostanza per eccellenza con eccitanti che aiutano a ridurre la percezione dello sforzo fisico e finiamo con un po' di cannella adesso vado a messiare in tutto si bevendo si bevendo si bevendo si bevendo E ora il mio compagno Elia andrà a mischiare tutti gli ingredienti con uno shaker e raffreddarlo con il ghiaccio. Andiamo a messarlo direttamente nella borraccia. Raffreddarlo con il ghiaccio. Raffreddarlo con il ghiaccio. Raffreddarlo con la ciattolata fondente che dà un tocco elodico a questa bevanda. Andiamo a chiudere il tappo. E buona piadalata a tutti. Grazie. 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 Grazie.